Salvare il presidio della Banca d'Italia nella città di Taranto significa lanciare un segnale netto di presenza delle istituzioni governative su questo territorio. Questo è il messaggio lanciato questa mattina nella sede della CGL di Taranto per denunciare il rischio di cancellazione della sede in questione. Viene meno un presidio di legalità e una funzione importante di controllo dello Stato su tutto quello che riguarda gli aspetti economici, i flussi di denaro che su questo territorio soprattutto in questo momento necessitano di una importante funzione di controllo. La sede della Banca d'Italia Taranto in questo momento diventerebbe un'ulteriore, venuta meno di quella azione dello Stato che invece soprattutto in questo periodo viene annunciata come importante. Siamo in un momento in cui probabilmente i lavori di ambientalizzazione, tutto quello che ha a che fare con le disposizioni contenute nel decreto ILVA potrebbero determinare un impiego economico e finanziario importante perché allora far venire meno una funzione così determinante che quella appunto che assolverebbe la Banca d'Italia. Con la chiusura della sede della Banca d'Italia su Taranto avrebbero meno 16 posti di lavoro. Naturalmente il problema centrale anche se rappresenta molto come ricaduto occupazionale la perdita di 16 posti è il fatto che comunque queste persone verrebbero ricollocate in maniera diversa. Ma quello che ci preoccupa in maniera pressante è il fatto di perdere un presidio istituzionale nel nostro territorio che già ha subito tante vessazioni nell'ultimo periodo ed è molto ferito dal punto di vista sociale.